Samuel Stern numero 32, il sangue dei martiri. Dei martiri? Dei martiri. Wabalabadabadaba e bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti, nella rubrica Samuel Stern. Mentre state guardando questo video, io probabilmente sarò morto, no scherzo, poi magari succede davvero, no, sarò in vacanza, quindi ho voluto lasciare i video di Dylan Dog e di Samuel Stern questa settimana. Comunque non mancherò di leggere poi eventuali commenti, se non in questi giorni, la prossima settimana. Dato che è un video per me insolito, per voi non cambierà niente, ma per me insolito, voglio prima di iniziare fare anche un piccolo unboxing. Dato che non voglio dilungarmi troppo con questo unboxing, approfitto dicendovi che se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi al mio canale, mettere un bel mi piace, un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che festeggiano il Cinco de Maio e lo Sdias dello Smuerto, se di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero e di questo video. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, e vi ricordo sempre che qua sotto in descrizione trovate la modalità per iscrivervi al fan club Sterniani, fan club che vi regalerà alcune cosette interessanti, tra cui anche un magazine, che contiene una mia intervista a Massimiliano Filadoro, che è il co-scrittore di questo numero. Unboxing fatto! Oh ma che cos'è arrivato? Che cos'è arrivato? Ovviamente è arrivato. Samuisterna, la copia antica in stile, parliamoci chiaro, è un po' in stile anche diaboliche, però è proprio quei fumetti molto anni 70, ovviamente poi c'è la mappa, la mappa di Kalia, buono dorino tra l'altro, il numero zero di Kalia, ragazzi ve lo dico fin da subito, non so se lo leggerò assiduamente come è stato per Samuel, però ci metterò il mio impegno, ecco. E infine Samuisterna, le cover dell'incubo, fatemi sapere se preferite un video dedicato o se preferite che facciamo una live assieme, magari ai soliti compagni di merende che credo l'abbiano anche loro, ovviamente invito così pubblicamente adesso Luca DJ, Kuro del canale di Kuro, anche Kili dell'altro fumetto che è un grande fan di Samuisterna, non riusciamo mai a beccarci in live, però fatemi sapere se volete una live insieme ad altri caballeros oppure se volete che faccio dei video dedicati, purtroppo il grande assente è Valery che speravo di trovare sul sito Bugs Comics ed è per questo che ho aspettato così tanto a ordinare questi, ma in realtà è in fumetteria e quindi devo andare a prenderlo in fumetteria, non vedo l'ora di leggere diciamo il finale alternativo di Valery, magari su quello farò sicuramente un video a parte. Ma bando alle ciance parliamo del sangue dei martiri, devo dire che questo numero mi ha entusiasmato perché per certi versi parla di un aspetto della religione e della fede che non è mai stato toccato in Samuisterno, ovvero l'aspetto più folcloristico e se vogliamo anche più superstizioso. La fede cattolica, la fede cristiana più in generale dovrebbe essere quella che è più lontana dalla superstizione, cioè c'è proprio un dogma che dice che non bisogna avere idolatrie eccetera, non fa niente se poi la fede cattolica per prima è alle chiese piene zeppe di immagini e statue di santi che non dovrebbero essere idolatri, nel senso non sono mai al pari dell'essere divino, di Gesù, di Dio eccetera, però c'è nonostante quando c'è una cultura un pochino povera, un pochino bassa, un pochino ignorante, nel senso proprio più, meno offensivo che io possa dare, cioè quando si ignorano alcune cose, alcuni dogmi, è molto probabile che nelle menti semplici si mescolino appunto le devozioni verso magari un santo piuttosto che verso il signore medesimo. Però non è, cioè è approvata diciamo dalla chiesa cattolica questa cosa perché non è considerata idolatria si chiama intercessione, cioè quando tu sei talmente umile che non osi nemmeno chiedere, non lo so, una grazia direttamente al signore, direttamente alla madonna, ma la chiedi a un santo a cui tu sei devota che intercede per te, cioè attraverso, insomma è un po' come essere immanicati, no? Cioè non vuoi parlare direttamente al big boss ma parli magari con il sottosegretario, ecco una cosa del genere. Oltre a questo c'è da dire che la fede cristiana, la fede cattolica, quando si è fatta strada nel mondo non è sempre stata fortunatamente devastazione della religione pagana precedente, spesso e volentieri si è integrata con la religione precedente, per esempio il Natale è il 25 dicembre non perché Gesù davvero sia nato quel giorno, spoiler alert, ma perché si integra con il sostizio d'inverno che appunto era il, diciamo, una delle festività pagane precedenti al cristianesimo. Nel caso della fede messicana e sudamericana più in generale si integra molto appunto con la religione precedente che era quella azteca, quindi c'è il culto dei morti, il culto anche della, la chiamano santa morte a un certo punto nel numero, e appunto in Sud America e in Messico è tollerata questa venerazione proprio perché si integra con la tradizione precedente alla venuta del cristianesimo, ma come dice lo stesso padre Duncan, non vale in tutto il mondo, per esempio in Irlanda e in Scozia questa cosa non è molto tollerata. Mi piace tantissimo che mostrino questa mescolanza di culture, questo anche impatto all'interno della stessa fede, di due opinioni, di due modi di vedere, di vivere la fede in modo diametralmente opposto, tanto per far vedere anche magari ai non addetti ai lavori, che non è tutto rose e fiori internamente alla chiesa stessa, oltre a fatti ben più gravi e noti che scorrono sui giornali. Un altro aspetto interessante è appunto la santità di questa persona, di questa protagonista e il suo rapporto con la paura. Mi è piaciuto tantissimo come questa ragazza in qualche modo abbia dei poteri, non è spiegato assolutamente come li abbia, non è spiegato assolutamente, anzi è abbastanza, è dichiarato apertamente che non ha espressamente un demone dentro di sé, ha un'ombra comunque, non si è ancora ha formato un demone, ma è comunque influenzata da forze diverse che la portano a essere in un certo senso un catalizzatore, esattamente come Samuel. Quindi mi è piaciuto molto l'introduzione di un personaggio che potrebbe diventare in futuro o un'alleata o una nemesi, o comunque uno dei nemici ricorrenti perché mi piacerebbe vedere, di Samuel Stern. In questo numero ha un ruolo tipicamente da vittima, è la classica ragazza del mese che Samuel Stern salva, dalle grinfie del demonio. Ma c'è dell'altro e quel dell'altro viene appena accennato, ma io spero che si veda anche in futuro. Quel dell'altro è, diciamo, narrato da questa ragazza che la teneva al rifugio per scappare dalle violenze del marito e purtroppo è finita in mezzo a quella che è stata una vendetta davvero atroce. Devo dire che la scena dal punto di vista grafico è stata veramente impattante, voglio fare anche complimenti al disegnatore che non ho guardato chi è, disegnatrice, scusate, Adriana Farina, che ha reso proprio di impatto questa scena ed è stata davvero una pugnalata da vedere. E questo porta all'altro aspetto positivo di questo numero che è il fatto che tratti la violenza sulle donne. Samuel Stern è bello, è bellissimo perché riesce a toccare temi attuali che sono sempre attuali. Come si era detto anche in altre occasioni, per scrivere un fumetto ci vuole all'incirca un anno e quindi si fa fatica a stare dietro all'attualità, ma purtroppo l'attualità ha sempre questo brutto vizio di essere sempre attuale, di ripetersi finché non impariamo la lezione. Quindi se anche scrivi un numero l'anno scorso sulla violenza sulle donne, stai pur certo che quest'anno sarà comunque attuale, non sarà storia passata. E purtroppo, leggendo questo numero, si riesce proprio a capire il problema tuttora reale della violenza sulle donne. Lo si fa in maniera molto metaforica, ma anche in maniera molto diretta. Quindi ci sono questi due aspetti. Ed è del tema che tra l'altro in Samuel Stern non credo fosse stato trattato prima. Devo dire, a me è piaciuto molto come lo hanno trattato, però non ne ho abbastanza. Mi piacerebbe che ne parlassero ancora di più, magari sotto altre sfaccettature. Così lancio un appello. Se volete, parlatene ancora. Se ne è parlato anche in altri modi, in modi più trasversali. Questo è un modo un po' più classico, un po' più diretto. Il classico marito geloso che non vuole che venga interrotta la relazione, si vendica con un incontro chiaritore. Quante volte lo abbiamo sentito questa parola, un incontro chiaritore anche al telegiornale dove l'ex marito, lo stalker l'amante, si vendicava brutalmente, uccidendo, sfigurando, come in questo caso, la vittima di turno. Non vorrei sembrare un disco rotto, ma davvero trovo assurdo che la gentile concorrenza che si è fatta strada negli anni 90, con temi caldi e attuali che potevano fare indignare e parlare le persone. Non riesco a concepire come non trovi delle storie a questo livello, non riesco a fare delle storie a questo livello e si abbandoni a storie davvero di bassa lega o puramente fantasy. È un vero peccato vedere un'istituzione del fumetto italiano crollare su se stessa, sull'ombra di se stessa e vedere, però è positivo vedere che comunque realtà nuove riescono in un certo senso a tappare questo vuoto. Se devo trovare proprio un difettuccio in questo numero è il fatto che secondo me il finale è un po' affrettato, nel senso che a un certo punto tutti questi sospetti che vengono sparsi molto molto saggiamente, molto minuziosamente all'interno del numero, poi vengono appunto veicolati verso una delle due persone che davano più pensiero, ovvero su padre Martinez, che appunto è il vero villain di questo numero, però lascia quasi innocente questa ragazza che si chiama Ana, quando in realtà dalla parte centrale dove appunto la ragazza sfigurata al suo posto, la definita cattiva malvagia, lasciava presagire che ci sarebbe stato dell'altro dentro di lei, invece qua sembra una vittima dall'inizio alla fine. Io pensavo proprio che, anzi è così, cioè il concetto che lei ha assorbito, ha imparato ad assorbire la propria paura è anche la paura degli altri e ormai quasi non senta più nemmeno il modo giusto in cui percepire la paura, perché la paura appunto deve essere onorata, come dicono all'inizio, quindi la tua paura deve essere onorata perché ti preserva, in un certo senso, dal male. La paura è un istinto di sopravvivenza fondamentalmente, quindi Ana sembra che abbia imparato ad assorbire la propria paura e quella degli altri al punto da non capire nemmeno più quando sia giusto gestirla e quando no, tant'è vero che togliendo la paura agli altri sembrava quasi che li lasciasse cattivi, che diventasse lei il capro espiatorio di queste persone che riversavano su di lei tutte le responsabilità della comunità. E questo sfiora anche vagamente un altro aspetto delle religioni, delle fedi dei piccoli paesi, dove appunto si riversano tutti i problemi, tutte le colpe su qualcuno esterno a noi, cioè ah è colpa del sindaco, è colpa del prete, è colpa di quella ragazza lì che va in giro con la minigonna, è colpa, non è mai colpa nostra e questo è un brutto brutto aspetto delle persone non solo religiose, religiose o no, magari si nascondono dietro la religione per, come si dice, nascondere altro dentro di loro che può essere un odio, una rabbia che è stato coltivato a volte magari sullo stesso binario della religione. Dicevo appunto però il finale è un po' frettoloso perché avrei preferito vedere un'ana che riusciva a possedere meglio il proprio potere e quasi a essere un nemico più difficile da battere per Samuel, però la mia speranza appunto è che questa cosa, questa voce dell'amica che ha detto no guarda che ana è cattiva, io spero che potremmo rivedere ana in futuro, magari sotto un'altra veste. Fa capolino una sorta di agenzia cattolica, anzi devo dire che mi aspettavo anche di vedere prima qualcosa del genere perché la chiesa cattolica è un'istituzione che mai come nei contesti cinematografici ha una sorta di task force per queste cose ed è arrivata finalmente anche in Samuel Sterna, chiaramente avendo già l'agenzia sarebbe stato ridondante proporla prima, ma adesso i tempi sono maturi dopo Abisco, padre Duncan medesimo ha detto anche la chiesa, anche la mia istituzione ha preparato una sorta di agenzia e si occuperà di ana, ecco io vorrei vedere molto di più di questo in futuro. Io ho già parlato troppo troppissimo, non ho fatto proprio spoiler ma un po' li ho fatti, spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente lo potete fruire al meglio se avete letto il numero altrimenti ho parlato di aria fritta, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e come sempre con il link in e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.